buongiorno a tutti anzi buonasera buonanotte quello che è allora prima di farvi il riepilogone del gran premio di formula 1 che si è disputato ieri il gran premio di spagna che devo ancora vedere quindi faccio questo vi dico faccio il video così intanto ne carico uno e poi faccio il gran premio che mi ci vorrà un paio d'ora che lo vedo che scrivo tutto che preparo tutto eccetera eccetera quindi c'è un po di tempo in modo che così avete due video già per la mattina di lunedì da curiosare del gigione poi naturalmente nella giornata di domani riepilogo della serie a meno che non faccio il folle e lo faccio già stanotte ma non credo schedine bollettine del gigione come sempre perché lunedì sarà una giornata campale visto che ci sono le partite infrasettimanali di diversi campionati oltre a quello italiano e poi cercherò anche di fare scusate il colpettino di tosse anche il riepilogo delle schedine bollettine magari nella nottata dopo la direttona del gigione del lunedì o se no martedì comunque ragazzoli prima adesso bando alle ciance ciancio alle bande perché io mi al di lungo sempre troppo volevo raccontarvi di questo episodio di love and order decima stagione love and order unità vittime speciali che si chiama transizione ero incerto se farlo o non farlo perché è un argomento molto delicato che adesso è comunque la storia comincia con un uomo che viene trovato picchiato selvaggiamente fuori da un locale diciamo un localino di quelli di strip per intenderci e non si capisce come mai che è stato che non è stato eccetera e viene fuori che questo signore ha un figlio barra figlia che appunto è nato maschio però si sente femmina quindi vuol diventare femmina infatti loro non lo sanno vanno in casa della della moglie che sta dicendo e c'ho problemi con mio marito perché mio marito non accetta mio figlio eccetera eccetera e loro non capiscono no finché arriva questa ragazza che però è un ragazzo tutta vestita di rosa e c'è pantaloncini pantaloni rosa e viso da da ragazza anche se appunto e quindi c'è tutta sta problematica sul fatto che il padre non riusciva ad accettare che la figlia anzi che il figlio volesse diventare figlia e quindi casini con la moglie ragazzo mandato dallo psicologo per vedere di risolvere questa situazione eccetera eccetera e poi si evolve tutta la storia poi si va a scoprire si cerca di scoprire chi è stato chi non è stato a fare a picchiare questo genitore eccetera eccetera che comunque esce fuori dall'ospedale sta bene quindi c'è solo un'accusa di come si può dire pestaggio non c'è il termine esatto ma in questo momento non mi sovviene però in america non è come in italia che se picchi uno gli paghi gli paghi la multa e sei fuori subito al massimo ti fai sei mesi con agli arresti domiciliari come nel film di pieraccioni che c'era er patata che gli hanno detto sei mesi di domiciliari perché ha preso un vigile l'ha buttato giù da un ponte un cassonetto per una multa no quindi in america se picchi qualcuno prendi dai cinque dieci anni lo stesso loro non è che stanno lì come da noi che per finire in galera devi proprio farla grossa grossa ma proprio grossa da elefante proprio una cagata da elefante fai una cagata da elefante cioè fai qualcosa di veramente grave e allora sì ma se no poverino ma bisogna capirlo è alla prima volta che fa un reato e tutte le stronzate possibili immaginabili se invece basta che hai ma quello lì aveva già fatto quella cosa lì e marcia allora giù secco ma sorvogliamo sulla giustizia italiana che fa cagare ma stiamo sull'argomento perché mi stavo disperdendo no e quindi c'è questa condizione quando io poi oggi giustamente siccome si sta sempre in tema e sembra che youtube lo faccia opposta nell'elenco che mi mette dei video dei di persone eccetera eccetera a parte le solite cose di musica giannifer connelly che la mia attrice preferita tutti gli youtuber che c'è la bella lista che a volte me la mettono anche nella nella pagina principale quando entri in youtube sapete benissimo c'è il mio mix e catto e uc wolf e dav e luca nera azzurro e diego ligorio messi un po heller channel eccetera 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 poi musica 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 mi è capitato anche un vidietto c'era scritto una cosa su questa era un uomo donna perché ho scoperto che è un uomo che però vuole sta diventando donna eccetera però penso che abbia ancora vale e sono andato a curiosare su su appunto questo video qua di questa ragazza che però un ragazzo però sempre una ragazza e cioè se non diceva lei sono un un trans prendi per una ragazza perché comunque viso da ragazza e raccontava di com'è depressa di com'è triste di che dei casini che che sta facendo per e io sinceramente quando sento sti racconti qua capisco che noi siamo stati fortunati perché a noi male che vada prendiamo un due di picche dalla tipa che non ci piaga che non non ci caga cioè ma al massimo ci innamoriamo della tipa che non ci caga prendiamo due di picche ma è brutto quando tu nasci uomo e ti senti donno nasci donna e ti senti uomo è terri è bruttissimo cioè io al pensiero sto male per loro cioè io quando mi prendo un due di picche caino un paio di giorni perché l'autostima se ne va a farsi fottere anche se dicono eh ma l'autostima è quello sì ho capito ma se tu ti senti break pit ma non ti caga nessuna capisci che magari hai la cosiddetta superiorità che dicevo no la superiorità effimera per intenderci adesso c'era il termine esatto che mi dimentico sempre ci ho fatto anche un video nel uno degli ultimi call news c'era appunto questa sindrome della superiorità illusoria ecco e quindi quando uno si sente ma io sono figo io sono bello io sono qua io sono giù sono giù poi quando ci prova con 100 donne prende 101 due di picche perché lo prende anche da chi non non ce ne manco ho provato e capite che magari però quando invece ahimè uno o una si trova in queste condizioni è terribile perché per di più non è una scelta tua anche innamorarsi non è una scelta nostra perché non è che tu sei di bello tranquillo che ti fai i cazzi tuoi con gli amici entra la topolona di turno la vedi senti il cuore che fa penso che sia capitato un po a tutti e i colpi di nel bar dove era un dicembre ero con la mia amica il suo ragazzo che fa andiamo a farci una chiacchierata io la vedo una volta all'anno perché quando viene al lago magari ci organizziamo per un saluto la conosco da più di trent'anni però lei qua al lago viene una volta viene giusto d'estate un paio di settimane e qualche weekend a caso e quindi mi fa andiamo all happy bar entro all happy bar parlo di non so se era già si probabilmente era dicembre si era già era già vera venuta a mancare da poco mia mamma entriamo qua all happy bar o era l'anno prima o era l'anno dopo forse era l'anno prima era un dicembre comunque entriamo all happy bar c'è questa ragazza lì e io però diciamo che è stato il colpettino di fumo il colpettino di fumo ce l'ho avuto dopo quando abbiamo iniziato a frequentare letteralmente l'happy bar forever and ever e lì vabbè succede succede il colpo di fulmine eccetera ma anche lì tu sei lì tranquillo non è che sei predisposto per il colpo di fulmine eccetera quindi sono tutte situazioni che non scegliamo noi sono inconsce così come quando una magari ti viene dietro sarebbe la ragazza perfetta con cui ti trovi bene e ha lo stesso carattere tuo però non ti piace abbastanza e magari se ti senti in colpa dargli il due di picche perché sai che cosa vuol dire prendere un due di picche perché la vedi perché ragazzi miei basta guardare negli occhi le persone se voi guardate negli occhi le persone capite tante cose soprattutto quando sono innamorata io ogni tanto lo sapete l'unico esame decente che ho dato è stato di sociologia il comportamento umano e quindi io il comportamento umano mi piace osservarlo mi piace vedere le coppie no come si guardano come stanno come non stanno e capisci sempre quali dei due più innamorato dell'altra riesci a capire se sono tutte due innamorati perché basta guardarle come si guardano negli occhi e capisci se una magari è innamorata per interesse se una è innamorata ma non lo è guarda osservatele le persone poi ci sono anche quelli che non si capiscono non è che è così scontato comunque è bello osservare osservare eccetera eccetera quindi quando sento queste cose qua io cerco di entrare tra virgolette nella situazione cercare di comprendere così come mi successe poi concludo perché se no mi dilungo troppo tanti anni fa ci fu una una strage diciamo di un uomo che sterminò la sua famiglia nel pavese adesso non mi ricordo se era pavia o se era un paese limitrofo comunque era la zona era quella dicevano pavia o giù di lì sterminò la sua famiglia ma la moglie e i figli perché si era innamorato della sua collega di lavoro eccetera più giovane e siccome lui non è che faceva un lavoro che lo strappagavano se avesse chiesto al divorzio alla moglie siccome questa ragazza era un abbastanza diciamo che era esigente per intenderci quindi se voleva stare con lei doveva tenere un discreto tenore di vita non chiedeva la luna però comunque il regalino il pensierino eccetera eccetera capite che se mezzo stipendio lo devi dare per mantenimento moglie e figli ad andar bene mezzo stipendio ti scordi di avere una nuova fidanzata quindi lui siccome si era invaghito talmente tanto sterminò la famiglia ero in un gruppo in chatta e io cercai di giustificare giustificare non dire ha fatto bene ci mancherebbe però cercavo di entrare nella mente di questo di questa persona che ha fatto una cosa efferata perché siamo d'accordo sterminare la famiglia perché ti sei innamorato di un'altra donna è una cosa efferata però cercavo anche di entrare nella sua testa di persona disperata e innamorata e noi sappiamo che quando siamo innamorati le cazzate le facciamo le facciamo tutte lo racconta ma spezzali lo racconta quando vi leggo come mai dico ma come cazzo stavo che sto a seguirla a vedere dove va eccetera ma come sto persone così io purtroppo le ho conosciute se erano lasciate con la ragazza e le facevano proprio le poste per vedere dove andava cosa faceva con chi usciva se usciva se non usciva quindi lo so io prendo un 2dp che me lo prendo amen ma non è che se sono innamorato di una ah che puttana che sto non mi sentirete mai dire una roba del genere sì qualcuno potrebbe dirmi Gigi sì ma ti ricordi sì ma ero ubriaco come una coccozza e allora avevo rifatto una canzoncina su una determinata ragazza che si era messa con un altro ma ero ubriaco eccetera e quella sera lì me ne fecero di ogni perché io mi ricordo vagamente le cose ma so che mi spingevo mi usavano come omino che veniva spinto a destra e sinistra eccetera 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 proprio perché mi ero bevuto l'impossibile cioè se mi facevano l'ettilotesfo esplodeva era un novembre del 1990 probabilmente o 90 91 quindi figuratevi quanti secoli fa poi per il resto io sono una persona che se gli piace una ragazza gli piacerà sempre poi non ci sta ne prendo atto la si accantona la si mette nel cuoricino e ci si guarda in giro per vedere se si trova un'altra poi vabbè c'era la la signorina che mi disse neanche in faccia perché le cose in faccia non hanno mai le palle di dire l'una che è l'unica che abbia le palle di dirmi le cose in faccia proprio appunto quella ragazza lì di cui vi parlavo che appunto ci vedemmo il giorno dopo restammo a parlare per un'ora un'ora e mezza per chiarirci tranquillamente senza nessun problema ma per il resto quando una mi piace ci provo non me lo dicono che non sono interessate fanno le gnorri mi evitano poi mandano l'amico ed è successo ormai sono diversamente giovane ma è sempre successo così mai che nessuna avesse le palle di dirmelo in faccia o mandano il messaggino anzi no prima mandano l'amico poi una volta che l'amico mi dice guarda che ho l'amica perché ho quasi sempre l'amica ogni tanto mandano anche l'amico che poi magari ti viene pure a dire guarda che a me non interessa dopo due giorni ci sta insieme ma vabbè sorvogliamo anche quello sapete quante volte è successo o sapete anche quante volte magari c'ero io che andavo dietro una ragazza c'era il mio amico fa guarda che viene dietro a me vabbè allora vai tu e poi magari scoprivo e sai Gigi però ero incerta tra te e lui però visto che tu hai mollato d'altronde come diceva la mia mametta mi sono troppo e me lo diceva anche il capo della remas mi fa Luigi tu non sei adatto a fare il venditore di casa perché sei troppo buono qua ci vuole il pelo e che tu non hai pelo sullo stomaco comunque ragazzoli io mi sono disperso un attimo perché sapete quando io parto da da un argomento poi viaggio con tante cose però volevo sapere da voi un parere su appunto queste queste persone che ahimè si trovano nel corpo sbagliato e come possono convivere con questa cosa perché io sentivo questa questa ragazza si chiama il canale si chiama abicocca 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 l'ho trovato per caso è perché c'era l'elenco appunto e c'era e il titolo mi aveva un attimino colpito sono andato a sentire cosa diceva eccetera è molto negativa come ragazza cioè è l'opposto di aller è l'immagine della dell'allegria tra virgolette nonostante abbia una una cosa neurologica che la costringe a prendere medicine su pendicine gli è arrivato un tumore al seno ha dovuto fare gli hanno svuotato per intenderci e adesso c'è le protesi comunque il semi fortunatamente ci sono ancora non li hanno dovuti asportare hanno dovuto asportare la parte interna ma la parte esterna è rimasta intatta diciamo anche se lei ha perso completamente sensibilità lo racconta eppure nonostante tutte queste sfighe che ha è sempre l'immagine della del sorriso dell'allegria del cercare di aiutare gli altri con le sue cose viceversa questa ragazza qua la senti ne ho visto un paio di video giusto per capire un attimino la situazione non penso che proseguirò a seguirla ma era proprio la depressione totale mentre aller dice ogni giorno che ho che bello sono ancora viva eccetera eccetera lei si è depressa nonostante gli abbiano detto guarda sei salva non è che muori domani gli è venuta la depressione eccetera lo raccontava anche per tutta la sua situazione che ha e tutto quanto comunque ragazzoli io mi sono dilungato troppo fatemi sapere voi cosa ne pensate se è un argomento che vi può interessare se non ve ne frega niente che mi dite Gigi non ce ne frega niente di quei puntini puntini perché c'è stato una mentre lei raccontava questa cosa qua uno gli ha scritto è così impari sei un uomo che vuole diventare donna almeno cioè ma ti rendi conto che non è che se l'hai scelto lei di c'è un conto uno che dice hai fatto questa cosa qui per tua scelta ne paghi le conseguenze ma uno non è che nasce e decide ah io voglio diventare sono un uomo voglio diventare una non penso io sinceramente sono felicissimo cioè felicissimo certo se fossi nato Raoul Bova era meglio se fossi nato Brad Pitt era meglio se fossi nato Leonardo DiCaprio era meglio se fossi nato che ne so Joe Tempest era meglio almeno c'avevo dei bei capelli come Don Cherubino adesso non so Joe Tempest è ancora quella bella criniera bionda poi non so magari è gay e quindi anche meno cioè io quando altra cosa a proposito di cantanti quando venne fuori che George Michael e anche Schalpie sono gay io ci sono rimasto male perché dico cazzo siete due fighi della madonna vi potrete trombare le migliori donne del mondo siete finocchi ma scusate il termine scusate il termine ripeto scusate il termine perché adesso non si può dire però veramente ci sono rimasto malissimo c'era la mia amica era innamorata persa di George Michael io avevo il video di last christmas registrato me l'ha me l'ha finito c'è un pomeriggio è venuta con con gli amici eccetera eccetera mi fa gigi ma so che c'è il video di prego sei messa lì è stata mezz'ora a guardarsi avanti e indietro e quindi scoprire che gli piacevano gli uomini capite che cioè che spreco che spreco poi vabbè ragazzi io ve l'ho detto amici gay o amiche lesbiche non ho nessun problema con loro anzi sono persone magari anche più simpatiche di certi eterosessuali che è meglio sorvolare però ripeto quando vedo un bel ragazzo che dico che spreco perché io vado avanti a due di picche lui che si potrebbe lui invece lì dai due di picche alle donne perché gli piacciono gli uomini vabbè detto questo ragazzoli spero di non aver offeso nessuno e ci vediamo al prossimo video vado a provare a vedere la formula 1 vedere come è andata anche se purtroppo me l'hanno già detto perché non faccio in tempo ad aprire facebook e c'è il tifusissimo tra l'altro è un ottimo pilota di macchine questo ragazzo che mi mette subito la classifica finale e tutto quanto però il gran premio non l'ho visto quindi me lo godrò farò tutta la bella bel racconto come faccio sempre e ci vediamo alla prossima ciao